Ciao ragazzi, sono Antonella Panarelli, ho frequentato il liceo scientifico Sante Simone fino al 96 e mi sono poi laureata in matematica all'Università di Bari. Adesso sono insegnante qui al liceo Cavalieri di Verbania. Vi consiglio di frequentare il liceo scientifico perché personalmente mi ha dato tantissimo e mi ha permesso di unire un approccio scientifico, quindi una cultura con una forte connotazione scientifica a un contributo umanistico importante che è quello che ti può dare la letteratura, le lingue straniere o la filosofia. Quindi forza ragazzi!